Una cura per tutti è possibile, siglato accordo tra il comune di Enne e l'istituto superiore per le scienze cognitive al fine di assicurare gratuitamente supporto terapeutico a chi non può permetterselo. L'ambulatorio solidale Aleteia è stato presentato durante il congresso La Mente tra le nuvole tenutosi all'hotel Federico II e ha l'intento di offrire un servizio in più alla cittadinanza, una collaborazione continuativa che sarà certamente proficua per il territorio. Voglio fare una brevissima introduzione sottolineando come questo sia per noi oggi un giorno molto molto importante perché il nostro sistema Aleteia che compie 30 anni, proprio tra pochi mesi, si era prefisso alla sua nascita di contribuire al benessere della popolazione ennese. Il benessere oggi passa per la salute mentale, poiché ci siamo resi conto di avere a disposizione strumenti terapeutici innovativi che possono contribuire alla salute mentale, ma che non sempre possiamo metterli a disposizione delle persone che oggi versano in condizioni di difficoltà economiche, abbiamo deciso di attuare questa ipotesi di lavoro. Un giorno alla settimana un Pulti Specialisti aprirà le strutture del centro clinico Aleteia alle persone che ci verranno indirizzate dal comune di Enna. Voglio dire che abbiamo avuto subito una risposta entusiastica dall'amministrazione ennese, soprattutto nella persona dell'assessore ai servizi sociali Paolo Gargaglione, che ha fatto sua questa iniziativa e collaborando strettamente in poche settimane siamo arrivati alla verifica. Se posso permettermi questa riflessione mi sembra un caso emblematico e positivo di collaborazione tra strutture pubbliche e strutture del terzo settore, che proprio devono essere sussidiarie e colmare quelle lacune che il pubblico non riesce a colmare. Io ho accolto con grande favore la proposta presentata dall'Associazione Istituto Superiore per le Scienze Cognitive perché con questo progetto e questo protocollo che verrà sottoscritto nei prossimi giorni, tengo a sottolineare che la delibera è stata già adottata proprio nella giornata di ieri. In pratica non facciamo altro che migliorare il nostro sistema di welfare nella nostra comunità e nella nostra città. Il servizio si rivolge a quei soggetti che hanno un disagio psichico e che purtroppo in alcuni casi non hanno il supporto dell'ASP e che siccome vivono anche uno stato di disagio economico non possono rivolgersi a delle strutture specializzate. Pertanto noi diamo questo servizio a titolo gratuito firmando e sottoscrivendo questo protocollo. Il servizio verrà strutturato all'interno dell'Associazione e a costo zero per il Comune e una volta a settimana in pratica la struttura verrà messa a disposizione del Comune qualora i servizi sociali vorranno segnalare casi di questa natura.